Deve rispondere di violenza sessuale e lesioni personali ai danni di una giovane turista per fatti accaduti nella notte tra il 20 e il 21 luglio a Filicudi. Si tratta di un uomo che si trova a Filicudi per motivi di lavoro. La donna era in vacanza per qualche giorno nella piccola isola delle Oli e dopo aver partecipato ad una serata danzante in un locale sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà da parte di un uomo conosciuto poco prima. Da qui i carabinieri della compagnia di Milazzo lo hanno sottoposto alla misura del fermo emesso dalla procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. Le indagini sono scattate dopo la richiesta d'aiuto della vittima e la denuncia presentata presso la stazione Carabinieri di Filicudi. Immediati gli accertamenti eseguiti dai militari dell'arma coordinati dal procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Adornato e dal sostituto procuratore d'ora esposito. Sono state sentite numerose persone, sequestrati capi di abbigliamento ed oggetti e infine si è proceduto ad effettuare esami clinici. All'esito di queste attività tutto questo ha permesso di ricostruire la caduta e di individuare il giovane quale autore della violenza nei cui confronti per gli inquinenti sussistono gravi indizi di colpevolezza. Ecco il motivo della misura cautelare, il fermo e il trasferimento presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.